Si chiama Samantha Wynne Greenstone, mi pensate che è una donna che si è innamorata perdutamente di Jakob Hoff, miglior amico, ma l'ha capito di questo soltanto a un certo punto del loro rapporto. Samantha ha fatto sapere di non essersi mai sentita così con nessun altro amico prima d'ora, eppure si è innamorata del suo miglior amico. C'è stato un fortissimo magnetismo, una fortissima attrazione fisica, oltre che psicologica, è come se lo conoscesse ormai da un milione di anni. C'è stato anche un bacio, un bacio mussaviato, che è stato il coronamento di un sogno. Pensate infatti che la coppia si è poi innamorata, appunto, e è stato poi un legame forte, un legame forte. Tuttavia l'amico non si riesce a rendere conto com'è possibile tutto questo, però fa sentire di non sentire la mancanza degli uomini. Bene, ok? Però pensate che questo uomo è gay. Va bene, infatti Jakob è un ragazzo gay. E quindi è scoccato l'amore, tra i due. Io vedo Jakob gay, va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e il video del mio qua. Ciao da Narrato Italiano.